Buongiorno ascoltatori di YouTube, oggi sono ritornato indietro nel tempo, un po' di anni indietro, ma guardate qua, una volta per bere che non c'era l'acqua facevano su e giù, su e giù per bere, anche quest'anno nel 2022 c'è stata la siccità, però non c'era questo problema per prendere l'acqua, ma guardate qua il soffitto che bello, ma guardate che bello là, è per fare il pane e la pizza, guarda là per fare il pane e la pizza, questa è l'uscita, guardate che bello è un portone, favoloso questo portone qua, bello bello, ma scusi che in Cascina siamo? Fabriziana, premma magna, giusto? Guarda che bello, guarda che bello, il portone di una volta, ecco, Aldo racconta la storia, oggi è libero, dai è libero, sono uscito dalla mia prigione, guarda la finestra, guarda la finestra, prendi e qui comincia a raccontare il mio film, il mio film, ecco d'esta persona che ho davanti, che gli dico, chiamami con il tuo nome, ma è una storia qua, devo dire che nasce contadina e poi rinasce nuovamente questa storia in uno spirito d'amore, dove l'amore diventa folle in un senso del tempo passato, dove l'arcangelo, come vedete qua, il tombino chiamato arcangelo, prende ali, in un altro mondo, uscendo da questa Cascina, denominata con nome antico rossa, ora si chiama Fabriziana, guardate che bello il portone, la mia camera, dove nascondo i miei segreti, ma ora sono libero, perché siamo in una società moderna, dove l'amore può essere preso anche mano per mano, se vuole mi può dare la mano, eh, bravo, bravo, e allora mi incammino in questa libertà di prati, venga a vedere le pannocchie, le pannocchie, guarda che bello questo campo qua, guarda, prima o poi la butto su una pannocchia, la capovolgo e la faccio ruotare, come se fosse la ruota del mondo, perché il mondo gira, anche in senso positivo, che cos'è che fa girare il mondo, è l'amore, è l'amore, se non ci fosse codesto sentimento, saremmo aridi, come questo terreno, invece il mondo gira, perché c'è l'amore, chiamami con il tuo nome, ciao!